Psychic Frog è tra le carte più ricercate di Modern Horizon 3 nonostante sia una rara, infatti, il suo prezzo ha raggiunto addirittura i 15 euro perché Gaido Soul costa 5 euro, è stragiocata in Modern in mille mazzi Psychic Frog si gioca solo nel mazzo che dovremmo giocare oggi costa invece il triplo? Beh, perché Psychic Frog è una carta blu? Giusto? No, perché Psychic Frog si gioca anche in Legacy stiamo parlando di una carta che in Legacy è stata assolutamente importante per forse addirittura ridefinire un mazzo e un formato un mana blu e un mana nero 1-2 quando Psychic Frog fa danno da combattimento a un giocatore o a un placewalker pesca una carta anche al placewalker, ottimo scarti una carta, metti un più uno più uno counter permanente sulla Psychic Frog esili tre carte dal cimitero e la fai volare fino alla fine del turno quindi le nemovan rosse non la toccano i blocchi, come si dice, non evasivi non la bloccano eccola qua lei è una rana che si è fatta troppo di LSD in fondo ed è con questo che chiedo il vostro like sulla fiducia per il mio ritorno a fare diciamo dei video regolari qui su questo canale mi sento storto, ma vabbè questo lo risolveremo un'altra volta like sulla fiducia, commento tattico e ovviamente iscrizione al canale per chi non si è ancora iscritto troverete un sacco di contenuti di Magic volendo, se volete potete pure attivare la campanella così non vi portete neanche una notifica e quindi benvenuti in Dimir Murtad allora, io e le mie premesse una cosa, ho giocato un po' modern in questi giorni devo essere sincero, l'ho giocato per divertirmi non per fare video, ma proprio solo per provare mazzi e così via devo dire che il mio formato preferito di Magic che tanto amavo e... ehi... ad... mi piace più tanto cioè, ho notato che ci sono veramente pochi mazzi che sono forti, forti, forti gli altri stanno un po' indietro la diversità che vedo nelle league, nelle challenge è un po' apparente i mazzi veramente più forti degli altri hanno proprio una marcia in più questo Dimir Murtad ha una marcia in più allora, lo vedremo nella league di oggi però, vi dico che sicuramente è tra quei mazzi che io considero ecco, magari non Tire 0 dove metterei altri però... è un mazzo che può rispondere più o meno a tutte le minacce del formato e che riesce effettivamente con la sua velocità di discardare oh mio Dio, che cazzo ho detto a farti un Murtad molto veloce con cui poi può chiudere la partita grazie ai vari counterspell e le difese a 0 come Saptly e Force of Negation questa lista personalmente mi è piaciuta tantissimo ne ho viste tante, tante, tante in questi giorni e... boh c'è l'imbarazzo della scelta su come montarla io credo che una cosa sia abbastanza... diciamo... l'hanno abbastanza capita tutti non vedete Tamiyo in questa lista a me Tamiyo è una carta che non piace e mi è sembrata sempre molto scarsa e quindi ho scelto una lista senza Tamiyo e poi con delle, diciamo, carte che a me piacevano molto come scelte e quindi la andiamo ad analizzare con il nostro Deck Tech sponsorizzato da Fantasia Store ricordate che infatti col codice la cria 5 per il 5% di sconto su tutto il catalogo non scontato di Fantasia Store io ho questa Psychic Frog Old Border che vi ho fatto vedere che non so più dove cazzo ho messo e quindi mi sto già preoccupando sparita l'ho presa proprio grazie allo sconto che ho su Fantasia Store sparita la mia Psychic Frog sparita per davvero vabbè pausa la devo trovare si era permessa di cadere per terra eccola qui appunto la volevo far vedere detto questo andiamo a vedere la lista 19 terre tra cui non troviamo veramente nessun segreto se non ormai la presenza ubiqua di queste Surveiland che sono fortissime perché ragazzi sono una specie di Opt di Considera Zero se vogliamo perché pensateci un attimo Considera è una carta che voi avete in mano che vi permette effettivamente di pescare una carta ok che la Terra con Surveil non fa ma che fondamentalmente vi occupa umana no? questa è una terra che entra tappata e vi occupa umana e fa Surveil quindi non vi pesca la carta ma comunque insomma come power level siamo quasi a livello di un Considere e io devo dire che non avevo visto tutta questa potenza in queste carte comunque non c'è Otawara non ci sono castelli strani non c'è un cazzo ci sono due Fastland due Watery Grave due Paludi due Isole vedremo poi perché le due Paludi e basta poi il mazzo è un Agro Control i mazzi forse più belli da giocare a Magic quelli che sono veramente più come si dice anche che richiedono più skill che sono dei mazzi che cercano veramente e devono essere giocati da un giocatore che ha davvero una grossa esperienza con il gioco secondo me andiamo a vedere più o meno come si compone il mazzo come potete vedere ho voluto cercare di mettervi le carte in maniera appunto da vedere quali sono ecco forse così ancora meglio quali sono le varie colonne perché il mazzo è formato fondamentalmente da creature intelligenti perché a parte questa tutte le creature in questo mazzo fanno cose cantrip che ci fanno per vedere la side meglio ci fanno andare più forte con le mani possiamo tenere delle mani insomma particolari la forma di controllo del mazzo che in questo caso e questa lista mi è piaciuta molto controllo della mano e controllo della pila più controllo del cimitero e mi è piaciuto anche questo cling to dust con il secondo insight quando vedo che giocano tutti monocopia di cling to dust dico il secondo insight dove invece lui lo giocava perfetto trovate sempre come al solito la descrizione la lista che io ho utilizzato e poi le removal anche se questo stinking to stupor deve fare un po' così può controllare il board ogni tanto perché effettivamente rimuove ma può pure counterare allora fatta questa divisione andiamo ad analizzare carta per carta che mi sembra comunque più adeguato come metodologia di deck tech poi chiaramente raccolgo sempre insomma i vostri feedback relativamente a queste cose quindi fatemi sapere come mi piace il deck come no allora consider cantrip che chiaramente insomma a noi a riempire il cimitero ci interessa relativamente ci interessa solo per murtide clean to dust anche se vedrete che faremo volare psichic frog molte volte quindi chiaramente due considere quattro preordain preordain è il country più forte che adesso in questo momento si possa giocare in moda è stato sbannato da poco godiamocelo poi da poco ormai è passato un sacco di tempo godiamocelo scrai due e poi peschi una carta allora lo split dei counter a uno è stato diviso tra due spell pierce e due spell snare non so se questa divisione è corretta io con tutti i tron eldatron che becco roba che c'ha tanto mana lo stesso natu penso che tre spell snare e uno spell pierce sia lo split corretto però andremo con questo e vediamo comunque che figura ci fa fare clean to dust è una carta che a me piace tantissimo perché io l'ho messa tra il controllo appunto del cimitero fa anche da country quindi questo mozzo gioca quattro sei sette country perché un country pa uno esilia una carta da un graveyard se è una creatura guagni servita se no peschi una carta che è meraviglioso esiliandosi la propria fetch se non ci sono carte al cimitero fatal push non ve lo devo descrivere il mazzo non ha paura di shield fortunatamente non ha paura di omnat non ha paura di un sacco di carte poi utilizziamo questa versione assassin's kid che mi piace molto quindi insomma sono molto contento e poi inquisition of kozilek giochiamo quattro scartini e giochiamo quattro scartini non sono to seeds Akita sei matto allora ragazzi io ho trovato questa lista proprio perfetta e che intercetta davvero tanto il meta secondo me questo mazzo non può farsi tanti danni con le terre non può proprio permetterselo perché i mazzi aggressivi comunque sono veramente molto molto forti giocare contro boros energy non è una passeggiata con questo mazzo anche se poi a una certa avremo un mortide regente gigante quindi secondo me inquisition of kozilek è proprio una bella carta da giocare in questo mazzo e poi ci sono veramente pochissimi mazzi dove non ha target avrà sempre insomma ci farà sempre secondo me scartare una buona carta speriamo di vederlo nella league che stiamo per giocare in questi tre giorni counter spell counter da tutto orkish baumaster chiaramente tassa le persone che vabbè counter spell non lo devo spiegare orkish baumaster tassa le persone che voglio pescare ma soprattutto combatte contro l'anello fa due pezzi blocca bene attacca decentemente fa un danno quando serve potrebbe addirittura risultare una vittoria orkish baumaster se l'avversario è uno draw in the lock è una carta che io adoro throne of the drain qui siamo che counter a spell se il mana value è maggiore scusate minore o uguale delle carte che sono al cimitero del giocatore che controlla quella spell oppure distrugge una creatura con lo stesso identico principio questa carta gioca una nuova carta di modern horizon quindi oltre ai 19 dr ne ha 21 una cosa bellissima poter giocare stinking to stup return target speller non land permanent open and control to the zone è una carta meravigliosa cioè una carta fantastica che ci permette veramente di fare avete paura di un rest in peace c'è un anello che vi sta dando fastidio avete una force of negation e poi lo potete counterare qualunque cosa qualunque anche un place walker un teferi che non si gioca praticamente più teferino è veramente veramente una bella carta mi piace tanto vediamo di sfruttarla al meglio force of negation e subtly rappresentano le nostre interazioni a zero con l'avversario questo mazzo l'ho visto montato con 4 force of negation vi dico la verità perché non vuole prendersi anello in testa da control chiaramente da gesky control e subtly due copie bellissima carta e sapete che a me piace moltissimo le incarnation sono comunque ormai qui per restare e soprattutto questa ci difende un po' da griffa scammata a primo turno ma non solo da tantissime altre creature e ci permette anche di giocare un pochino meglio contro l'invangent murktide regent è la carta che danno un mazzo 7 mana ma a delve quindi si fa 2 di solito magari con difeso da counter per fare un mostro gigante e chiudere la partita in pochissimo tempo visto che vola andiamo a vedere la side che anche la side secondo me fa delle scelte perfette a me piace proprio come ha montato questo mazzo sto ragazzo toxic the lodge nuova carta di modern horizon come costo addizionale devi pagare x vite tutte le creature prendono meno x meno x fino alla fine del turno una fratta che si fa a 3 e riesce effettivamente a non uccidere il nostro murktide e magari uccidere tutto il resto break the ice distrugge una terra che di neve può produrre in colore a 6 overload distrugge tutte le terre con questa caratteristica chiaramente questo mazzo contro il drazzi non sta bene infatti gioca triple break the ice e doppio al bringer of the sea sono super contento di vedere in un mazzo competitivo questa carta su cui avevo puntato tantissimo in fase di card review e che purtroppo non ha dato i grandi risultati perché tritoni non è un mazzo e quindi non si gioca questo arbringer of the sea peccato peccato tutte le terre non basiche sono isole facciamo un giocatore che si sta un attimo insomma preparando non ne sa anche boros molto forte questa carta contro boros magari fatta dopo blood moon perché no con le nostre due isole tac tutte le sue terre poi diventano isole io dico bella carta in questo mazzo perché in una shell control come questa che esce dalla side è veramente pericolosa cling to dust numero 2 e doppia nil spellbomb per controllare i cimiteri avversari quindi quando c'è flage da evitare mettiamo il secondo cling to dust quando c'è della ciccia mettiamo anche nil spellbomb ster scolding dal signore gli anelli con furore countera una creatura con forza o costituzione due o meno un tempo counterava ursa e jagmot oggi nato non lo countera però però countera cianni non è male e con sin to memory quindi guardate quante carte giochiamo contro le big mana strategy con sin to memory tra l'altro ci permette di counterare comunque insomma anche l'anello quindi l'abbiamo visto abbiamo visto anche in live si può mettere contro control o contro i mazzi che appunto utilizzano l'anello bene direi che ho concluso con il mio deck tech andiamo a cercare un oppo un gentilissimo oppo mentre vi dico che questo è il codice sconto che dovete usare invece per mana traders che è un servizio che vi permette di affittare le carte online che è praticamente utilizzato da qualunque giocatore di magic online ma veramente qualunque perché ci aiuta tantissimo e quindi grazie al mio codice sconto avrete 10% di sconto sui primi due mesi di abbonamento è tanta roba è tanta roba allora io sono sincero non vedo l'ora di giocare questo mazzo perché mi sembra veramente fighissimo abbiamo una bellissima mano e teniamo e vediamo come si comporta nel mezzo uh addirittura dobbiamo farci un mirror mirror greve mirror greve allora vorrei pescare spell snare se dovessi proprio e allora qui la scelta è fare terra tappata come ha fatto lui invece io faccio terra stappata per avere la possibilità se lui fa la sua psichic frog di ucciderla subito e fare la mia mi sembra comunque una giocata molto forte diciamo però lui non fa nulla quindi andremo a fine turno chiaramente a fare una surveillance e vedere la nostra cima abbiamo già 4 terre in mano non credo che vogliamo la quinta ok qui abbiamo perso tra virgolette un turno per fare preordain però io sono abbastanza contento probabilmente arriverà orchetto qua quindi non faremo cioè potremmo farlo preordain comunque perché abbiamo push però non so vediamo lui che fa adesso lui fa orchetto qui ok orchetto qui orchetto qui quasi quasi è bello cioè nel senso psichic frog è figa in questo spot no consider ma consider io lo terrei sopra vabbè sbarazziamoci di questo questa è una swamp stavo per cascare nel tranello più vecchio del magic stavo per giocarla per fare preordain io direi terra no certo quanti cantrip però i cantrip sono troppo fighi quindi li tengo io chiaramente in questo match up arriverò a fare psichic frog diciamo protetta qui il problema è se me la fa lui fa baumaster che comunque è forte perché io ho mille cantrip in mano vorrei tanto trovare un altro fatal push invece trovo un altro cantrip che non è che serve granché qui lui deve avere spell snare sulla mia rana io ci provo e ce l'ha e ce l'ha ce l'ha male 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 perché qui devo trovare assolutamente un push per poi fare tutti i cantrip questo non mi aiuta quindi lo butto giù e poi cercherò comunque un preordain lo devo fare qui eh preordain coperto da counter lui tra l'altro se mi fa un murtide mi manda splutone e ho giocato non so se il fatto che lui avesse l'iniziativa mi ha un po' come si dice impaurito però ho giocato dovevo giocare la partita in maniera molto più reattiva probabilmente avrei dovuto giocare Psychic Frog quando potevo di secondo perché io tra l'altro non vedo nemmuval nelle sue mani qui lo può fare murtide sì o no 1,2,3,4,5,6,7 sì lo può fare allora siamo morti pure 4,4 manco troppo cioè se faccio il mio la rana ma sai che la rana lui due carte io counter e quella può diventare 4,5 se io mi scarto tutto andiamo un po' se la tiene sta partita sta ranocchia pazza se la tieni sei Gesù solo tutto quindi io provo a fare counter spell qui e lui ha spell Pierce beh aveva anche un po' la mano di pinta direi qui ne prendiamo 4,5,6,7 vabbè non concedia posso scartarmi cantrip no direi che non mi serve scartarmi cantrip posso pescare un murtide gigante che non mi salva devo pescare murtide removal stinking to stupor non mi salva quindi proviamo a fare questo preordain che chiaramente farà triggerare questo signore e fatal push mi serviva per uccidere qualcuno però non cioè se levo questo con stinking to stupor non riesco poi a fare nulla e no i miei vedete che questi sono mazzi comunque veramente complicati soprattutto per uno che appunto non è che l'ho mai giocato andare è stato secondo me un grosso errore andare a mettersi quei cantrip sopra non dovevo dovevo cercare altre rimozioni e cose così allora io dico che clean to dust cioè gestire il cimitero con questo tipo di carte a uno che gioca murtide secondo me non è interessante voglio giocare star scolding perché prende la rana e prende bow master quindi è forte secondo me non sono fortissimi counter spell così diciamo che giochiamo doppio star scolding molto più io che gioco gli scartini mi sento anche avvantaggiato nel matchup se lui non giocasse gli scartini chiaramente cioè potrebbero rappresentare veramente la nostra svolta tra l'altro se lui faccia male anche questo è carino forse più on the play che on the draw e che counters per promo non mi piace forse sarebbe meglio mettere due green to dust ma no con sin to memory no forse deluge forse deluge lo mettiamo on the draw tra l'altro non mi piacciono i counters ma li ho pescati tutti 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 e qui giocheremo contro il suo mitico spell snare ah no gioco a scartino pure lui si sistema la mano con preordain noi chiaramente andiamo a cercare la terza terra perché qui ci serve vabbè questa è buona per cercare la terza terra stavolta posso rispondere a orchetto in maniera decisiva quindi insomma immagino che questa rana non oddio quasi quasi perché devo fare rana non protetta c'hai ragione non faccio rana non protetta questo per la mano che ho non mi sembra forte invece la terra mi serve non lo faccio la rana non protetta qui fai rana tu e ti tiro push aspetti mi fa orchetto ti tiro comunque push con counter open ok lui invece fa surveill land ok adesso doppia psichic frog però va bene lui che mi può fare ha presso una creatura quindi non non temo troppo il fatto di non giocar la protetta perché allora il punto qual è se sono sicuro di pescare terra non gioco così gioco chiaramente a difendere il psichic frog siccome non sono sicuro devo smuovere la partita devo far cadere qualche carta da parte sua in questo caso un fatal push e io sono pronto col mio fatal push se lui dovesse fare rana poi potrebbe avere spell pierce per carità quello che volete se pesco terra buono perché faccio psichic frog protetta e lui deve avere un altro push e poi giochiamo con i miei push sulle sue creature chiaramente murtide la vince qui a lui gioca nel spell bomb nel matchup a me non piace meno male che ho messo giù un murtide allora oh questa è una buonissima notizia vai ragazzi quanto sembra un'isola stabile palude lo possiamo dire o no qualcuno si offende questo è un motore di pescata è proprio forte se ora questo counter funziona mazza se fa dismember è un po' rischio mi posso scartare tutta la mano invece no va a pescare con la sua nil spam probabilmente lui ha fatto questa scelta levati counter counter è forte solo contro murtide diciamo la verità un nero io qua provo tutta la vita chiaramente a difendere e se mi mangio murtide dopo muoio è un murtide no ma lui deve fare counter non l'ha levati i counters per cui il psychic frog muore il mio motore di pescata muore e adesso deve giocare lui col suo murtide contro il mio counter lui un po' di spell attirate chiaramente pesco un inutile terra però devo cercare pure no le fecce non me le devo tenere tanto push prende insomma questo deve essere dedicato a murtide ok invece tutto il resto deve essere dedicato ad altri creatori comunque lui pure non sembra una grande mano noi però certo non abbiamo cimiterro se peschiamo murtide non siamo contenti però vedete qui lui dici che faccio il loro esilio il civitero non il loro esilio amico mio vedi che è una scelta difficile mi lasci tre carte poi magari io adesso faccio murtide non lo so però forse va messa è una carta che va messa banalmente va messa e comunque è forte pure contro la rana non la fa più volare beh non la fa più volare insomma qui mi piacerebbe pescare orchetto mi sembra una carta ottima per giocare questa particolare situazione di board anche scartino mi piacerebbe pescare lui qui vedete si preoccupa del mio murtide in upkeep mi si mi darò pesca buono scartino no così pure pescato fammi un po' vedere che c'hai oh ma cazzo simone pensavo fossero tutte isole raga counterspell no counterspell passa va bene scartino counterspell va bene e qui non posso siccome mi sono tappato male con ste cazzo di tale devo cambiare il disegno di queste senza altro se devo giocare a sto mazzo o devo imparare che sono delle swamp perché in questo caso non posso fare counterspell scalding tutte e due non lo posso fare però non credo che mi serva perché io tanto counterspell lo devo fare su murtide che arriva adesso e sperare che lui non abbia spell snare per esempio e tutto il resto perché io comunque qui soluzioni non ne ho però il primo murtide è stato trasmesso al cimitero poi c'è a terra due carte in mano noi tre carte in mano probabilmente anche le sue carte sono reattive che non fa nulla ho un'altra isola così mi posso sbagliare di meno vi faccio notare la sua mana base quindi c'è un tritone che scappa qui fa veramente un danno psychic frog per me meglio push in questo caso oh con la swamp simone perché meglio push perché è meglio proprio non fare entrare orchetto perché orchetto c'è un enter del battlefield che certo pesco secondo stress holding certo orchetto non entrerà ora il murtide se lui lo pesca mi fa veramente il mazzetto è un nome comunque con the draw canote spella ancora peggio preordain perfetto ho difeso la doppia stress holding se lui aspettava questo preordain per fare il suo orchetto beh direi che sono tutte e due ottime ok adesso pesco io no top e pesco consider vabbè non faccio un cazzo ora allora aspettiamo il turno dopo ok lui feccia farà sicuramente surveillance non ha giocato due ne ha tre lui nella mana base pensate che mazzo è proprio molto rischioso il suo molto molto rischioso molto rischioso ok tre carte contro le mie quattro carte a me piacerebbe tanto tanto pescare spesner ah però io so che qui pesco murkhead quindi io questo consider non lo uso lo uso ora oh benissimo vai mi farò fine turno suo bowmaster per vedere la sua mano vedere qual è la reazione eccetera turno mio murkhead regent gli ho dato effettivamente una pescata in più per pescare il terzo counter spero non ne ho usati due uno due sei allora tanto devi counterare questo perché questo è antipatico non puoi più pescare eccetera vediamo forse c'ha push nulla quindi intanto ti devi occupare di un orkish bowmaster che ti mena mi sembra che io abbia pescato leggermente meglio di hop in questa partita ma è quel counter su murkhead secondo me se lui non fa counter sulla mia minaccia e fa counter sul mio counter questa partita finisce molto presto insomma allora io c'ho ancora benzina quindi posso giocare questo murkhead aspetta che però giusto lo gioco grosso grosso eh bello grosso qui ci vuole counter o stinking to stupor quattro mana sottighezza sottighezza buono non posso fare nulla con star scolding devo ah no però io ho perso una creatura quindi quantomeno tu crepi ho perso questo quindi ho tutto regolare io lo tengo top secondo me è una buona pescata pescare di nuovo murkhead lui ha una carta in mano si deve inventare qualcosa due mana blu murkhead se l'ha inventato qualcosa io i due star scolding me li do in faccia lui lo fa gigante 7-7 io non potrò farlo altrettanto gigante una carta in mano per oppo e questi due star call che potevano essere almeno dei più uno più uno in sella murkhead non lo sono io qui quindi pesco murkhead lui ha fatto murkhead qui tanto siamo open di star scolding il mio unico vantaggio se insomma che io ho tre creature se lui attacca per 7 io attacco per 4-5-6-7 quindi la race la vinco io se fa secondo murkhead mancazzo pure bellissimo Sauron's Ransom questa è una carta gigatronica proprio per lui ah io decido che fatal push ah no top pile face up face up quindi scusami io gli faccio face up questa e si prenderà quella face up e non si prenderà fatal push giusto beh credo beh bella pescata comunque per lui è un missile ha pescato cioè comunque un preordaino qualunque forte cioè io qua sono uno stink che fa ring bearer quindi ha preso la pila e non me lo dice quello ha pescato ma me lo mette al cimitero no ha pescato quelle invece ha pescato fatal push perché se non sbaglio boh vabbè vediamo comunque decidete di attaccare questa è la giocata più importante che io comunque con le sue due carte in mano insomma bella psychic frog qui se avessi tante carte addirittura sarebbe ancora più bella pensa arriva push su quello quindi lui non può comunque più cantrippare solo che io qui gli minaccio little vedono 4 le carte che posso scartare 7 lui 7 mi manda 4 quindi adesso ci sarà uno stallola messicana mi sa lui non attacca chiaramente non attacca no questo è il ring bear e adesso devo capire se attacco io pesco una carta inutile far attaccare questo con tre carte in mano è inutile quindi vai let's go spero che tu peschi psychic frog into orkish baumaster e tutto quanto ho un bel cantrip che ti faccia un danno se no lo vorrei pescare io questo cantrip sottigliezza una buona carta di magic adesso perché adesso devo contare il prossimo turno io devo contare i volanti cominciano a essere 3 no 4 e 3 7 basta che ne faccio 2 di 4 ster scolding proprio non vedeva l'ora di essere giocata spero non abbia pescato un altro ma un'altra ster scolding quindi vediamo se lui vuole difendere questa rana no e facciamo sottigliezza perché non hai fatto sottigliezza qui perché secondo me è più pulita come giocata farlo a fine turno quando non se aspetta e può fare poco e niente quindi io pesco carta questa 1 2 3 e 4 ma lui ce l'aveva la counterspell capito come ha giocato bene oppo oppo ha giocato bene se fa passare questa muore polluto e delta ci farà una surveillant ci regalerà una surveillant che potrebbe essere strarilevante cantrip dai bravo cantrippa dacci un po' di benzina che mi mancava la pedina a me comunque lo mando a 6 6 è poco però 6 è morto giusto perché blocca qui che è il più forte non blocca quello e 6 muore giusto dovrei aver contato bene però lui ha 3 carte in mano e io non ho delle carte che possano dire no comunque la partita va per le lunghe quindi un po' counterspell magari tanto tanto male l'ho tanto denigrato spells nerra in questo momento non mi serve voglio essere proattivo per esempio con un altro mortide ok purtroppo l'altro mortide non crescerà comunque abbastanza è solo 6 6 arriva counters per l'ennesimo però l'ennesimo adesso però se lui non blocca questo muore quindi io posso decidere di pescare questa sacra carta di okuto attaccando attaccando lui blocca questo 6 6 se io avessi un cling to dust no ma non ho instant nel mio cimitero però si ripropone dopo questa situazione di stallo alla messicana magari pesco uno stinking to stupore la faccio franca cioè farlo adesso perché ecco fatto questo sapevamo che ci sarebbe tornato utile no cioè ancora counter force of negation cazzo psichic frog contro psichic frog una carta contro una carta il mio è 6 il suo è 7 7 maledetto lui attacca 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 cioè io posso doppio bloccare qua ma soprattutto posso andare a 3 questo lo fa volare quante volte vuole blocca questo io ho due carte qua 1 2 3 4 5 quindi non basterebbe se non faccio doppio blocco doppio blocco lui ha un push muoio cioè sono vado al cimitero questo spell pierce lo posso buttare al cesso non può essere bloccato il ring bearer da no ma va bene da gente che ha la forza sua però lui ha giocato bene fino adesso cioè questo attacco sarebbe troppo stupido tra l'altro la mia neanche vola boh per ora vado a 3 ah ma non posso doppio blocco ci ho pensato mille anni ma quella non vola appunto io posso bloccare solo con uno lui ha fatto una giocata perfetta infatti quindi non ha un cazzo però eh non capisco adesso che cosa vuole fare con la sua rana però perché cioè io attacco ho più carte di lui quindi la sua rana muore la mia sopravvive e c'è stinking to stupor che mi sembra molto molto forte stinking to stupor qui mi permette addirittura di vincere e io ci provo eh ci provo con lui con una carta vediamo cosa abbiamo pareggiato uno pari ok allora ci hanno dato fastidio sì mettiamole inquisition ripeto carta più forte lui ha giocato assolutamente tutti i suoi quattro i suoi counterspell secondo me ripeto no io sono grosso no e giocherò solo due counterspell e e non giocherò però arbringer of the tides cioè potrebbe proprio incularlo eh ve lo dico potrebbe veramente incularlo cioè fatto così dal nulla io fecio due basiche boom cioè una basica nera boom lui perde il nero ed ecco il nero che lui interagisce con i miei creatore eh cioè io sono convinto che counterspell nei mirror di blu sia poco utile vabbè ho voluto fare sta giocata dai non non don't do this at home don't do this tournament è un'idea un'idea che potrebbe portarci effettivamente molto molto bene keep è una buona mano perché ha doppio scartino e oppo adesso ci dirà che cosa fa con la sua carta carta top l'isola io devo trovare però la palude base se voglio incularlo con il mio arbringer of the tides che ancora non c'è quindi la palude base la trovo qui e gioco palude delta palude base palude base inquisition of kozilek un'ottima inquisition of kozilek direi fatal push archmage arm ma io per ora levo preordain gli lascio quel fatal push quando io pescherò una minaccia io non ce l'ho la minaccia quindi secondo me è corretto e poi gli devo levare quell'archmage arm dai preordain così oddio però forse l'avrebbe fatto io avrei comunque no perché si sistema troppo bene la cima quindi lui qui ah devo vedere che terra c'aveva questa ce l'aveva si perfetto e proviamo di nuovo vedere che passa vedere che passa il convento pensa la carta in più era spell pierce quindi quell'archmage charm gli è rimasto molto male direi e la nostra cima la nostra cima la vedo dopo ah quella fetch quella fetch magari lo salverà bravo prendi blu nero fai qualcosa prendi blu basica mi piace blu basica 3 mana archmage charm turno su eh vabbè peschi 2 tutto per evitare il mio counter quindi qui per esempio fetch surveillant arbringer of the dides ah peccato vabbè allora graveyard questo vaffanculo arbringer of the dides arbringer of the dides no e ok per quello che dobbiamo fare va bene questa carta qua inquisition mi piace consider top inquisition fammi vedere che c'hai perché dopo che hai pescato tutte queste carte counter spell fatal push doppio spell snare spell snare non mi tange per ora leverò counter spell eh vabbè lo costringiamo fondamentalmente a giocare con una mano che non è che faccia molto perché la tua mano è questa spell snare fatal push dark slick short che ha fatto no non mi dica ha trovato subito immediatamente incredibilmente murtide ma che lui dovrebbe avere tre carte in mano io dovrei saperle tutte perché non le so c'erano due di queste forse eh io qui devo fare stinking to stupor fine cioè per piastanto non ce l'ha e fetch quindi lui in mano vado al no doppio spell snare cazzo doppio spell snare quindi il mio counter sul suo prossimo murtide quando e se ci sarà non è molto utile qui posso prendere la mia seconda basica nera not bad ok io quando li pesco i miei gun trip perché pescare orchetto no non è bello direi cosa ho detto io pescare orchetto no buono no è proprio pescato ok bene fantastico io non glielo tiro non ho follow up che lo faccio a fare adesso non ha senso tirarglielo adesso secondo me non ha senso cioè lo so che c'è spell snare doppio quindi flood and strand continuiamo ad andare avanti con le nostre terre vediamo che cosa succede non so lui chiaramente si aggiusta la cima mette pure una sotto quindi può tornare murtide dal più presto aspetta li devo fecciare me l'ho scordato lui sette carte in mano è arrivato sono tre quattro le conosco questa è buona contro murtide molto buona questa me la devo tenere contro murtide speriamo che sbagli lui insomma dai non che sbagliamo noi tre mana pesca due archmage charm buono buono io non ce l'ho ste carte nella mia lista buono buono proprio buono proprio preorder un missile va bene beato a te spero ripeto che si faccia fregare la subtly poi mi dite nei commenti se voi tenete i counter speller speller un mirror del genere a parte che abbiamo visto che non era proprio mirror cioè io avevo delle carte lui delle altre qui se fa clean up buono ha perso una carta gratis proprio gratis 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 per non tirare non lo so cosa la perde un fatal push che è la stessa carta che pesco io non serve a un cazzo in questo momento fatal push cioè ripeto lui ha doppio spell snare e un fatal push quindi i miei drop a due proprio me li scordo lui dovrà fare murtide protetto ed è quello che vuole fare la mia subtly non ci faremo un cazzo e moriremo anche che abbiamo già fatto uno stinking to stupor che è stato meraviglioso potremo pescare il nostro murtide magari dopo per fare un murtide ancora più grosso questo sarebbe l'optimum il sogno ciò che tutti vorremmo fare ma non avverrà ragazzi qui c'è un counter grosso così eccolo io non ho pescato spell snare mi devo mangiare questo murtide 7-7 io pure vorrei fare murtide 7-7 adesso contro le sue due terre open e ho pescato drown in the lock so porca puttana quindi devo cercare di fargli utilizzare più carte possibili tipo adesso faccio bombast ma devo arrivare a 7 carte quando ci arriva mai sono morto 7-7 quattro 3 attacchi e mi sembra che qui chi vede murtide bene insomma però forse appunto c'è l'errore dei counterspell sarebbe stato un sacco carino lavorare con il tritore levargli tutte le terre farle trasformare tutte in isole però lui qua decide addirittura di usare push anziché usare un counter uno dei suoi spell snare ecco fatto faccio psichifrog spell snare che poi spell snare qua me lo può fare tranquillamente decide decide di non fare spell snare questo è interessante questo è interessante che ora si sta affidando troppo ai suoi counter ai suoi push e io questo push che fa lo posso counterare e la mia rana può diventare più forte di questo affare counter target spell nero e blu giustamente la spell snare dimenticavo che la spell snare per counterarmi quello quindi tutto è andato come diceva lui ora io pesco e muoio oppure pesco moortide e faccio moortide perché ha fatto considerare con questo a terra proprio cioè così gratis non lo so poteva insomma spell scolding no altro moortide che pompa questo moortide fino a più 9 e moriamo vabbè e quindi chi vide più moortide vince lo vedevo dopo bella comunque mi sono super divertito con questo mazzo spero che vi sia piaciuto il contenuto chiaramente io vi ringrazio per aver guardato ci vediamo domani ciao